Ha bisogno di intervento il palazzo comunale e abbiamo pensato da tempo di destinarlo a Cittadella della Musica. Significa che oltre al giardino Ristortolani che abbiamo nominato, ma che ovviamente ha bisogno di un'infrastrutturazione per essere un giardino vero e proprio della musica, che verrà appunto trasformato in una duplice situazione, sia di punto lettura, relax per i studenti, per i cittadini all'inizio del giardino, ma anche in un auditorium da 200 posti nella parte che guarda la limonaia verso via Giordani, quindi un luogo della musica in più che si va a realizzare. Lì a fianco la scala del conservatorio, quella che attualmente non è agibile, che ci ha imposto da qualche mese la chiusura dell'auditorium Pedrotti, verrà ricostruita con anche la possibilità di accedere all'ultimo piano della galleria, insomma dell'auditorium Pedrotti nel palazzo Olivieri, quindi anche qui non solo poter riaprire l'auditorium Pedrotti, che è una delle sale dei concerti più importanti d'Europa, ma poterlo fare con una capienza che in realtà non era più disponibile da anni, perché la galleria, sempre per motivi di uscita di sicurezza, non era agibile, quindi una miglioria totale, quindi un nuovo luogo della musica, in questo caso al coperto, che torna a funzionare. Venendo al palazzo stesso, di Palazzo Ricci, il finanziamento complessivo dell'intervento, a parte i 400 mila euro della scala esterna, che si vanno ad aggiungere all'importante lavoro che i Rotari e i tanti pesaresi hanno avviato il crowdfunding per la progettazione dell'anno scorso, e dicevo sul corpo principale di Palazzo Ricci, oltre al giardino, abbiamo complessivamente 2 milioni e 300 mila euro di investimento per questo primo step, che consentirà sostanzialmente il rifacimento del tetto, che è una priorità ovviamente del palazzo, e l'intervento al piano terra che riguarderà la Bibliomediateca del Conservatorio, quindi il Conservatorio a Palazzo Olivieri potrà liberare i propri locali dalla Bibliomediateca, e quindi utilizzarli per altre esigenze del Conservatorio, e la Bibliomediateca verrà spostata, in realtà creata, perché l'attuale non è la parte media, e verrà realizzata appunto a Palazzo Ricci, al piano terra, sarà appunto il luogo dove poter consultare i testi del Conservatorio e della Fondazione Rossini. Lo stesso intervento al piano terra prevede anche delle salette, tra cui quella che era la cappella, al piano terra del palazzo, che può diventare anche una sala, concerti, audizioni da 40 posti. La parte che mancherà di tutto l'intervento invece è l'intervento che sarà necessario, attorno ai 3 milioni di euro che stiamo cercando con altri bandi, per realizzare le cosiddette residenze, quindi una sorta di foresteria, sia per gli studenti che per artisti che verranno a lavorare, a produrre a Pesero e anche la parte del palazzo, al piano primo, al piano secondo, destinare a laboratori musicali. Questa è la seconda parte che speriamo di riuscire a centrare nei finanziamenti entro l'anno, per poter magari correre con una presentazione congiunta e magari fare anche una gara unica entro l'anno. Sicuramente entro l'anno verrà fatta la gara per consentire l'inizio dei lavori primavera prossima su tutta la parte che abbiamo descritto e quindi realisticamente essere pronti per la primavera del 2023.